buongiorno quello che mi viene in mente da dire oggi è che siamo stati educati a pensare che siano sacre solo le festività religiose in realtà sono delle festività laiche e civili che dovrebbero essere condivise che sono sacre cioè rappresentano qualcosa di separato rispetto alla quotidianità che ci ricorda ci riaccende la memoria e l'attenzione ci ricorda che cosa rischiamo di vivere ancora e che cosa rischiamo di dimenticare il 25 aprile è una giornata di memoria in cui dobbiamo proprio riaccendere l'attenzione ed è una giornata in cui non è possibile fare dei distinguo dei sì però è però anche i partigiani è però non è proprio così è però forse però non ha senso festeggiare no il 25 aprile è una festività che va festeggiata è importante farlo il fatto è che negli ultimi anni è cresciuta la serie di persone che dice che in fondo non è una festività importante queste persone stanno diventando sempre di più ci sono oggi dibattiti televisivi in cui si discute sulla legittimità del 25 aprile questa cosa è incredibile perché il 25 aprile celebra la sconfitta finalmente dal nazifascismo e celebra la riaffermazione delle libertà democratiche perché è una festa che ci riguarda tutti a meno che non ci interessino le libertà democratiche e questo ovviamente sarebbe un enorme problema si deve quindi riaccendere questa memoria la sensazione che però questa memoria non sia così facile da riaccendere in chi non ha una certa formazione civica in chi non sa che cosa è accaduto veramente in cui percepi in chi percepisce la distanza rispetto a quegli avvenimenti a quello che è successo ormai 70 anni fa ecco questa cosa però è da da rifare nel senso è da riaccendere a me viene in mente che mia figlia sta leggendo per ora la storia di andrea e tati due bambine che si sono trovate in un campo di concentramento è una storia riscritta per bambini e illustrata su cui è stato la rai ha fatto anche un cartone animato lei ha visto inizialmente il cartone animato intanto lei ha un insegnante che le parla tantissimo della seconda guerra mondiale del 25 aprile dei partigiani quindi si era in curiosità moltissimo su questo su tutto questo ha visto il cartone animato ha voluto il libro illustrato adesso lo sta leggendo da sola piano piano ogni giorno questa cosa è importantissimo è importantissima perché una rinarrazione permette a tutte quelle persone che sentono distante il modo in cui fino ad oggi si è celebrato il 25 aprile di rendersi conto che qualcosa che riguarda anche loro questa cosa per me è molto importante ci sono due cose in particolare intanto il concetto di liberazione e la libertà come qualcosa da proteggere qualcosa di fondamentale qualcosa che deve essere condiviso l'idea di memoria sono più di due le cose che voglio dire l'idea di memoria e quindi il fatto che dobbiamo ricordarci di quelle cose che rischiamo a volte di dimenticare nel corso nella quotidianità l'idea di narrazione perché sono perché il 25 aprile è fatto di storie la resistenza è fatta di storie queste storie oggi secondo me vanno anche riraccontate di sana pianta completamente con un linguaggio più vicino soprattutto alle nuove generazioni perché le nuove generazioni devono essere formate all'antifascismo e all'antimafia per quanto mi riguarda queste due cose sono strettamente legate perché sono legate all'educazione civica e anche l'antimafia secondo me oggi andrebbe riraccontata di sana pianta perché è importante tenere viva quella memoria perché le persone della mia generazione se lo ricordano il periodo si ricordano il 92 invece le persone che sono dopo probabilmente no e questo potrebbe essere un problema e l'ultima cosa importante il concetto di resistenza purtroppo resistenza oggi ha assunto il significato negativo io andrei abbiamo scritto un articolo su linus che parla di resilienza e resistenza su questo vorrei fare un video specifico perché ci siamo convinti che resilienza sia un termine positivo e andremo a vedere vi dirò nel video invece che cosa significa e resistenza sia un termine negativo ma che cosa vuol dire resistenza cosa vuol dire resistere significa dire tu non oltrepassi questo limite c'è un limite che non può essere oltrepassato che non negoziabile ci sono dei diritti non negoziabili ci sono delle cose su cui non si può fare un dibattito perché sono premesse condivise e perché sono idee democratiche non possiamo dibattere sul fatto che queste idee democratiche sul concedere diritti a tutte le persone sul concedere libertà alle persone sia giusto oppure no quindi oltre questo limite non puoi passare resistere significa utilizzare la propria energia la propria vita il proprio corpo i propri pensieri per fare in modo che le forze contrari le forze negative non oltrepassino un certo punto che non è negoziabile per cui l'idea di resistenza oggi è veramente da recuperare perché purtroppo assunto un termine un'accezione negativa in italia invece qualcosa di positivo il 25 aprile rappresenta una delle pagine migliori della nostra storia perché rappresenta uno purtroppo dei pochi momenti in cui tante e tanti italiani hanno sono stati disposti a mettere il proprio corpo la propria azione per i pensieri la propria vita e tante persone erano giovanissime erano adolescenti in nome di queste libertà per salvaguardare riprendersi queste libertà e per distruggere l'autoritarismo e la dittatura buona giornata